ciao spaghettari come state bene vi state preparando per questa sera mi raccomando grande cenone vi mando questo video perché prima che qualcuno mi copia magari a livello nazionale che si siede con le bandiere italiane tutto falso dicendo qui è tutto vero oggi è l'ultimo dell'anno che anno è stato brutto bello è passato pensiamo al nuovo anno sicuramente l'arrivo del nuovo anno ci fa sempre un po pensare sarà bello sarà brutto come andrà c'è il lavoro non si lavora non vi preoccupate siamo tutti insieme e tutti insieme affronteremo qualunque problema che si presenta lì in catar siamo una famiglia grande allo spaghetto e tutti insieme lottiamo per la stessa cosa potete contare sempre su di me sono sempre a vostra disposizione vi faccio tanti auguri di un buon anno a voi e a tutte le vostre care famiglie vi voglio bene buon anno ma andate a fanculo va c'è dove tutte cazzate che ho detto c'è non sono ubriaco ma andate a cagare ma andate a fanculo va c'è non sono ubriaco ma andate a fanculo va c'è non sono ubriaco ma andate a fanculo grazie